Sabino, è il nuovo ministro Giulio che deve fare un discorso, sentiamo, sentiamo. Se presto a immaginare un orientamento per l'azione culturale nazionale non può che muovere dal prendere le misure di un mondo entrato nella dimensione compiuta della tecnica e delle sue accelerazioni. Sabino, su questa cosa io sarei un po' d'accordo, tu che pensi? Non si mette la zucchina. Il movimento delle cose è così vorticoso e improvviso, così radicale nelle sue applicazioni e applicazioni che persino il sistema dei processi cognitivi delle persone, non solo delle ultime generazioni, ha cominciato a mutare con esso. Il ministro ha ragione Sabino, però secondo me il problema aveva ricercato altrua. La caldaia. La caldaia, poi si fa lo sfiato e poi si capisce parte, diciamo. Di fronte a questo cambiamento di paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia, delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale, il rischio che si corre è duplice e speculare. Vabbè, Sabino, in sintesi, che cosa abbiamo capito? Non si è capito un cozzo. Secondo me Manglù l'ha capito, però questo abbiamo, che dovremmo fare? Non si è capito un pozzo.